Che mano delicata! E in confidenza sei la fine del mondo. Cerchi di fare colpo qui al pronto soccorso? Io cerco di fare colpo sempre. Devi assolutamente lasciarti fare alcuni esami e un'attack. Potresti avere un'emorragia interna. No, grazie. La gara non è terminata. Ma tanto non potresti più vincere. Non importa, voglio comunque finire la gara. C'è una festa al traguardo. Ci vediamo là? Un esame, un'attacca e tra un'ora sei fuori di qui. Non posso, devo andare. Ok, beh, sia chiaro che vai via contro il mio parere. Io insisto affinché tu rimanga. Quello ha detto che posso andare. Sappi che quello è un idiota. Ok, beh, allora devi firmare un modulo. Tesoro, tu puoi farmi fare tutto quello che vuoi. Com'è possibile che voi maschi pensiate al sesso praticamente sempre? Lo sai che non lo so? Potrebbe dipendere dal testosterone. Può darsi. Anche per questo ti consiglio il ricovero. Io firmo. Sì. Sono fortunato. Tranquilla, ci rivedremo. Spero di no per il tuo bene. Spero di no per il tuo bene. Che cosa vuoi? Tu baci i pazienti adesso? Sei geloso? Non sono geloso. Abbiamo fatto sesso, una volta. E ci siamo baciati in ascensore. E ci siamo baciati in ascensore, una volta. No, sul serio. Andiamo, esci con me. No. Stavo per morire, sai? Sì, ci è mancato tanto così. Che penseresti se io morissi e tu non avessi colto l'occasione di uscire con me? Non darti troppe arie. Andiamo. È una caccia. E non ci sto. Cosa? Il brivido della caccia. Mi sono chiesta più di una volta per quale motivo insisti tanto a volere che esca con te. Tu sei il mio capo. È contro il regolamento. E continuo a dirti di no. È una caccia. Ma è divertente. Visto? Per te è solo un gioco. Ma non lo è per me. Io, al contrario di te, ho ancora qualcosa da dimostrare.